Lo scorso 10 maggio c'è stato il triunfo della Salernitana in Serie A e per festeggiare questo attesissimo triunfo il Museo del Calcio Andrea Fortunato in Santa Maria di Castellabate ha deciso di esporre fino alla fine di maggio tutte le magliette della Granata in loro possesso. Questo museo rappresenta un grande esempio di centro di documentazione storica sul gioco del calcio in Italia. Esso nasce grazie a numerose donazioni ottenute nel tempo da parte di società calcistiche, calciatori, tifosi e fotografi sportivi. All'interno attualmente ci sono circa 650 maglie autografate, palloni, medaglie, scarpette e inoltre c'è anche un archivio di fotografie e filmati. Il museo è dedicato ad Andrea Fortunato scomparso nel 1995 a soli 23 anni perché è stato un esempio di vita e di atleta.